Perfetto ragazzi, le presentazioni appunto di Only One BBQ sarebbero terminate, ma alcuni hanno chiesto, è possibile vederlo internamente? Ma certo, è un piacere! Vediamo appunto se riusciamo a fare un riassunto di tutto quanto nella maniera più esaustiva possibile. Ok, allora, per prima cosa tiriamo via le viti e tiriamo via il coperchio. Ed eccolo qua, che siamo dentro. Ok, vabbè, allora, chiaramente, i nostri interruttori del pannello di comando che abbiamo già visto, ok? Adesso entriamo appunto dentro, come abbiamo detto, giriamolo un po', ok? Adesso, come prima cosa, possiamo subito notare i battery pack, ok? Perché sono due, uno di qui e l'altro di qua, ok? Lo vedete? Sono appunto due bacchi batterie, ok? Le NIMH, come al solito, perfetto, ok? Da 2A ciascuno, ok? Per cui noi restiamo a una tensione nominale di 12V, ok? Però le colleghiamo in parallelo in modo da salire, come si chiama, con la corrente, ok? Per cui sono due blocchi batterie da 2A, ok? Collegati in parallelo diventano 4, cioè 4.000 mA. Per cui 12V a 4A. Bene, poi, il nostro trasformatore di ricarica, perfetto, per quanto riguarda appunto, che si chiama, la ricarica di rete, ok? Prende 280V a corrente di casa e la porta poi chiaramente a 12, no, a 13V appunto, con, se non sbaglio, 900 mA, ok? Sarebbe stato l'ideale una per e passa o quasi due, perfetto, ma purtroppo poi c'è anche il problema di dimensioni, ok? Del trasformatore. Per cui ho dovuto adattare questo, ok? Che ci sta giusto, giusto, giusto. Attaccato poi con quattro fascette angolari, perfetto. Ok? Altrimenti poi automaticamente poi non ci stava, ok? Perché, allora, ecco, perché sono box bastardi, o meglio, scatole bastardi? Perché più, che si chiama, lo spazio è poco, ok? Come in questo caso, no? E' più un casino farci stare dentro tutto quanto, per cui abbiamo dovuto comparimere, come in una pressa, tutta l'elettronica, ok? E come possiamo vedere, c'è un bel po' di intrigo di fili, eh? Non è, per l'amor di Dio, uno dei più intricati, eh? Perché per alcuni progetti ci ho piegato anche due mesi e mezzo, anche tre, a dire la verità. Per cui comunque sono abituato. Però chiaramente è più una cosa, dobbiamo farcela stare dentro con pressa, in un piccolo spazio, e più porta via tempo. Poi, allora, non dilunghiamoci troppo, allora, abbiamo poi, ecco, chiaramente, il trasformatore, butta 12 volts, e là sotto, eccolo qua, vediamo il ponteradrizzatore, alziamo sto cazzo di roba, perfetto, dai. Il ponteradrizzatore, ok, il condensatore elettrolitico per ristrippare, chiaramente, si chiama, l'armonica, cioè, sì, appunto, del ponteradrizzatore, il condensatore di livellamento, non mi veniva a mente il nome, e quattro singoli diodi, perfetto, i classici, da un ampere, ok, 40,07, perfetto. Il ponteradrizzatore di solito può essere o integrato o a quattro singoli diodi, ok. Poi chiaramente varia la potenza, varia il modello di diodo, in base alla corrente, ok. Poi, qua abbiamo appunto l'interruttore per accendere la lampada, va di tutti i vari fili, perfetto. Il comune di massa che serve sempre in modo da prendere le masse, in modo da avere la massa portata di mano, ok, perché siamo fortunati che abbiamo un ramo solo di tensione, ok, che è il 13 watt della batteria che alimenta tutto. Se avessimo avuto più rami, eeeh, dopo si ride, sempre più intricato, no, vabbè. Allora, il nostro generale, chiaramente, perfetto, ecco, questo circuito qua, questo circuito qui che vediamo, perfetto, è quello che praticamente comanda il led, è praticamente il circuito degli starter kit delle auto, ok, per far partire la nostra batteria quando è in panne, ok, o quando è quasi scarica. Per cui, appunto, ci sono i transistor, i partitori resistivi che in base poi alla tensione automaticamente la ricon... e non tralasciamo anche gli zener, ok, fanno appunto il partitore, vengono a un livello di tensione e c'è tutto il procedimento, chiaramente. Poi magari lo affronteremo in un altro episodio, ok, e in base alla tensione poi accendono il corrispondivo led, come abbiamo visto, perfetto. Il main, perfetto, l'abbiamo detto, ecco qua, quando andiamo a ricaricare il nostro battery, le nostre batterie, insomma, ormai parlo in inglese, dico battery back. Ok, e quando andiamo appunto a ricaricarlo, appunto, dalla presa dietro, tra l'altro è pesantuccio, è pesa circa sui due chili, mi sono dimenticato di dire tutto quanto, anzi qualcosa di più. Allora, quando noi andiamo ad attaccare il nostro connettore, no, c'è anche il putterutore, sotto qui, non so se si vede, faremo in modo di... eccolo laggiù, perfetto. Abbiamo messo anche il solito filtro EMI per estirpare le tipiche armoniche presente sulla rete che sono fastidiose e creano, possono creare danni e disturbi comunque a valle, ok, i componenti di valle. Bene, perfetto. Per cui niente, quello l'abbiamo detto, quello l'abbiamo detto, perfetto. Ecco qua, è il circuitino qua che vediamo qui, è il circuitino che appunto, in caso di tensione troppo alta d'ingresso durante la fase di ricarica, del 13 volt della batteria della macchina, insomma, ok, io dico 13, però la batteria è 12, eh. Per cui appunto, quando superiamo la tensione massima di 16 volt per quanto importata dal circuitino e dalla resistenza, vabbè, poi c'è il condensatore solito, e automaticamente cosa succede? Che lui, insomma, il relay, apre il circuito e non lascia più passare la corrente, perché altrimenti poi le batterie non lascia più passare la tensione, chiaramente in conseguenza la corrente, altrimenti le batterie si surriscalderebbero e poi c'è il pericolo appunto di danneggiamento, si gonfia, no, diventano bollenti, eccetera, eccetera. Per cui un circuitino di sicurezza messo apposta, ok? Bene, deviatore, deviatore abbiamo detto, interruttore, perfetto. E niente, una rapida panoramica, ecco, sì, vediamo qua, questo componente qua, poi c'è un altro anche là sotto, non so se si vede, laggiù, laggiù, nascosta, attaccata, va, perfetto. Questo qua è una resistenza corazzata. Questo nome, l'avremo sicuramente sentito parlare di queste resistenze qua, sono resistori di potenza e si usano, appunto, negli amplificatori di potenza, appunto, no? Sono resistenze che hanno praticamente, a causa della forte dissipazione di corrente, no? E quindi chiaramente poi si riscalda per effetto joule e quindi poi dissipa per effetto joule, ok? Sono munite di dissipatore d'alluminio, chiaramente, questa poi è piccolina, no? E il valore andava bene, per cui automaticamente ho messo questa. Sono munite, appunto, di dissipatore per dissipare la forte corrente sotto forma di calore, ok? Perfetto. E appunto si usano negli amplificatori, ok? Quando ci sono delle grosse potenze in gioco vengono usati questi resistori qua, che tra l'altro mi piacciono molto perché sono molto comodi. Poi, cosa abbiamo? No, beh, più o meno abbiamo detto tutto quanto. Ah, ecco, ecco, come abbiamo visto, per comodità, no? Abbiamo messo, appunto, una maniglietta centrale, posta centralmente così il peso si distribuisce da una parte e dall'altra, davanti e dietro, ok? E la maniglia è centrale, automaticamente non si piega, in modo da poterlo portare in giro come una valigetta, chiamiamola così, ok? Il peso, l'abbiamo detto, sono più di due chili, adesso di preciso non mi ricordo, e niente. Poi chiaramente gli abbiamo dato una bella verniciatina, perché il colore originale, chiaramente, essendo la mie le zincate, è grigio, ok? Questo lo sappiamo già. Un bel bianco e azzurro. Due colori accostati che, secondo me, stanno molto bene, ok? Quando facciamo i contrasti con colori, di solito il contrasto sta molto bene, di solito. Poi chiaramente uno gli dà il colore che vuole. Perfetto, dovrei questa volta aver detto tutto, spero di aver spiegato tutto quanto, se ci sono come al solito altre domande, scrivetemi sotto, scrivetemi direttamente dentro nel gruppo, e sarà un piacere rispondervi, per le persone che poi vorranno ricostruirlo, ok? Bene, ci vediamo nella prossima puntata.